L'energia come non l'avete mai vista all'Energy Festival di Estra, ad Arezzo e Siena, una giornata ricca di eventi da vivere insieme. Incontriamoci il 22 maggio a Siena nel Parco della Rimembranza e il 28 maggio ad Arezzo nelle piazze del centro, San Jacopo, Risorgimento e San Francesco. Dalle 9 alle 20, laboratori ludici, show cooking, circuiti sportivi, informazioni sulla casa smart. La sera, gran finale, con musica e concerti. Estra, energia al futuro.